E' stata definita una tappa storica per l'olivicoltura abruzzese e l'olio extravergine di oliva, quella che si è tenuta presso l'Olioteca regionale a Loretta Pruttino, con la firma del protocollo d'intesa fra la Regione Abruzzo e l'Associazione Città dell'Olio. Noi oggi siamo qui a Loretta a firmare il primo protocollo d'intesa fra l'Associazione Nazionale Città dell'Olio e Regione Abruzzo in questo caso, quindi fra l'Associazione e le varie regioni d'Italia. Noi in Abruzzo siamo i primi a firmare questo protocollo, sicuramente a ribadire l'importanza dell'olivicoltura e dell'olio extravergine di qualità. L'Associazione, rappresentata da 355 realtà olivicole in Italia e la Regione Abruzzo, con questa firma si impegnano a costituire un tavolo volto a sviluppare e valorizzare la filiera olivicola e tutelare il consumatore. L'obiettivo è quello di confrontarsi, programmare scambio di buone pratiche e di idee per potenziare la filiera, come ha giustamente detto lei, per aumentare la cultura, ma per dare una ricaduta positiva a tutti quelli che gravitano nel mondo dell'oliva e dell'olio d'oliva. Un primo passo, questo, a cui le seguiranno altri in altre regioni italiane per valorizzare sempre più e meglio il patrimonio olivicolo italiano. È la prima regione d'Italia ad aderire a questo protocollo così importante che tenta di promuovere sia il prodotto ma anche e soprattutto il territorio. Le associazioni, città di identità come le città dell'olio, rappresentano per noi un volano di promozione nazionale e internazionale assolutamente importante. Oggi firmiamo questo protocollo che impegna ambedue le parti, la Regione Abruzzo e le città dell'olio, a sviluppare processi innovativi di commercializzazione del nostro prodotto in Italia. nel mondo. Oggi per l'olio abruzzese, non solo quello di Loreto e dell'area vestita, è una giornata importantissima perché c'è la firma del protocollo d'intesa per la prima volta tra la città dell'olio, il coordinamento regionale e l'assessorato all'agricoltura.